ben trovati all'oroscopo di oggi sabato 12 dicembre ariete anche se è sabato giornata per voi dedicata al lavoro provate però a dare un po di spazio anche ai sentimenti al momento sembra quasi che non vogliate neanche trovare il tempo per innamorarvi comunque lavorare placa le vostre ansie amici del toro la luna vi carica di energia e spirito d'iniziativa proprio ciò di cui avete bisogno in questo sabato per portare a termine con successo i vostri impegni cercate però di allargare il vostro ventaglio di interesse ed eccoci ai gemelli giornata da prendere con le molle vorreste tenere tutto sotto controllo ma la realtà vi sfugge di mano e i primi a smarrirsi siete proprio voi un consiglio fate esercizi di ginnastica posturale veniamo al cancro smettetela di preoccuparvi tutto andrà per il meglio anche sotto lockdown i vostri progetti ricevono il meritato riconoscimento in famiglia si respira un'aria piacevole e il clima sereno finirà per tranquillizzare anche voi leone oggi tendete a vedere tutto nero magari anche senza ragione in famiglia il conflitto generazionale è sempre in agguato ma vi conviene far leva sulle tradizioni e le radici il consiglio per il benessere psicofisico utile un massaggio praticato da persone esperte vergine oggi i rapporti pubblici e privati sono al sicuro grazie all'accortezza con cui vi destreggiate potreste apparire un po diffidenti ma visti i tempi è meglio non fidarsi bilancia imprigionati dalle solite cose non trovate il modo per esprimere la vostra creatività in questo sabato tuttavia potrete almeno cambiare i piani per il weekend una volta stabilite le priorità il consiglio dedicate un po di tempo libero alla lettura scorpione atmosfera tenera e serena tutto sommato il natale si avvicina a questa nuova situazione e comincia a piacervi date spazio ad attività leggere e rilassanti come una passeggiata al parco o un buon libro sagittario in questo sabato avete voglia di distrarvi ma qualcuno in famiglia vi richiama al dovere quindi svolgetelo al più presto in amore c'è questa ingiustificata sensazione di ineguatezza che vi tiene al palo il consiglio telefonate ad un amico stasera che non sentite da tempo capricorno in famiglia ciò che vi sta a cuore andrà finalmente a buon fine grazie al vostro contributo concedetevi tutto il tempo che vi serve per risolvere una questione che altre persone non sono state in grado di gestire acquario accogliete con piacere un attimo di pausa per riflettere e fare in tutta calma il punto della situazione alla luce degli errori commessi decidete di aggiustare la rotta perché non si ripetano ed eccoci ai pesci se anche qualcosa va storto non drammatizzate oggi c'è sempre un motivo per cui essere contenti il vostro umore è un po' umbroso ma non perdetevi d'animo e guardate con ottimismo al futuro ed è tutto per l'oroscopo di questo 12 dicembre buona fortuna a domani